Parliamo ora degli e-books e del formato e-pub. Un e-book non è altro che un libro in formato digitale. Un libro consultabile su computer, telefonini, palmari e tablet di vario genere. Se ci riferiamo al dispositivo di lettura, possiamo parlare di e-book reader. Come vedete da questa immagine, gli e-book reader sono veramente numerosi. Alcuni esempi di e-book reader sono il Kindle di Amazon, l'iPad, l'iPhone, l'iPod Touch, il Sony Reader, il SciBook Gen della BookIn e tantissimi altri che ogni giorno vengono messi sul mercato. Uno dei formati utilizzati per realizzare un e-book è l'e-pub. Il formato e-pub è un formato aperto ed è lo standard più diffuso al momento. Esistono anche altri formati come il Mobi, utilizzato da Amazon Kindle, il formato Lit, che è un formato nativo di Microsoft ormai obsoleto. Il formato e-pub si può ottenere esportando da diversi programmi, InDesign, Express ed anche Word. Per maggiori approfondimenti sulle procedure di creazione di un e-pub vi suggerisco di visualizzare il corso Creare un e-book in formato e-pub con InDesign che trovate sul nostro sito. Potrete consultare direttamente il filmato online tramite il nostro lezionario oppure acquistare il video. Come vedete questa è la struttura del corso. Ci sono degli argomenti principali e sotto ci sono degli argomenti secondari. Il corso è comunque ben strutturato e potete scegliere la lezione che più vi interessa per approfondire questo argomento. Un libro in formato e-pub può essere letto anche da un software caricato sul computer. Ad esempio c'è Bookworm, che è una piattaforma gratuita per leggere un e-pub online. Abbiamo Stanza, che è un software desktop per Windows e Macintosh. Abbiamo dei plugin aggiuntivi di Firefox, che possono essere caricati sia su Windows che su Linux e su Macintosh. Poi abbiamo Movie Pocket, che funziona sia su Mac che Windows. Per farvi vedere degli esempi di e-book e dei formati e-pub, ora aprirò l'applicazione iBook direttamente dal mio iPad. Andrò ad utilizzare un programma di duplicazione del monitor del mio iPad per farvi vedere esattamente quello che sto facendo sul mio iPad riportato all'interno del video del computer. Procediamo aprendo l'applicazione iBook. All'interno dell'applicazione trovate due pulsanti in alto a sinistra. Il pulsante dello store, che vi permetterà di andare ad acquistare o scaricare gratuitamente dei libri online. E il pulsante raccolte, che contiene sia i libri acquistati o scaricati gratuitamente, che il formato PDF. Quelle che vedete in questo momento sono le icone dei PDF che io ho caricato all'interno del mio iPad. Ritorno al pulsante dei libri e qui ci sono le icone degli e-pub. Quando parliamo di e-pub, parliamo anche di contenuti destrutturati. Questo significa che il testo, cioè il contenuto, è separato dal suo contenitore. Se vogliamo fare una similitudine, potremmo dire che il testo è come un liquido che rifluisce all'interno di contenitori di formato diverso. Ad esempio, andiamo ad aprire un libro che io ho acquistato direttamente dallo store. Se questo libro verrà visualizzato su un iPad, avrà delle dimensioni. Se verrà visualizzato sullo schermo di un iPhone, per esempio, ne avrà delle altre. Ovviamente, la caratteristica fondamentale è che ci sarà possibile ruotare il formato del nostro device per visualizzare la pagina in modalità singola, oppure tenerlo in modalità orizzontale per visualizzare le pagine affiancate. E sarà possibile sfogliare, come nella realtà, il nostro libro. Il fatto che il testo è come un fluido che rifluisce all'interno del nostro contenitore viene fatto notare dal fatto che posso ingrandire, rimpicciolire, semplicemente scegliendo di toccare la lettera A più grande e vedrete che il vostro testo aumenterà di dimensioni, rifluendo quindi in tutte le pagine del vostro ebook. Potremmo andare a ridurlo oppure andare a cambiare la visualizzazione del font. Preferisco associare un font di tipo bastone o invece un font di tipo graziato, a secondo delle mie esigenze, e posso anche associare un tema di visualizzazione. Per esempio, il tema seppia, che rende lo sfondo del monitor del device giallino per non appesantire e non stancare la visualizzazione. Oppure una nuova funzione, che è il tema notte, che viene utilizzata per rendere il fondo scuro e i testi in negativo. Torniamo nella visualizzazione normale. Un'altra caratteristica di questo ebook e degli ebook in generale è quella di avere la presenza di un sommario. Nel sommario noi possiamo cliccare direttamente sulla voce che desideriamo e verremo portati direttamente a quella pagina. Nello stesso modo abbiamo in fondo alla pagina un'icona che ci permette di scorrere e di posizionarci esattamente alla pagina desiderata. È molto comodo per i libri che hanno tante pagine. È possibile anche fare delle ricerche o associare dei segnalibri per ricordarci dove siamo arrivati nella lettura. Nel caso foste interessati a pubblicare un vostro scritto, come ebook, sappiate che potete affidarvi a degli aggregatori, cioè dei siti specializzati per la pubblicazione di ebook. Alcuni di questi siti sono www.lulu.com, www.ebookvaniglia.it, www.ebookitaliani.it e ultimabooks.simplicissimus.it In questa schermata potete vedere, per esempio, la schermata del sito di Lulu. Se siete invece delle case editrici o delle aziende e volete pubblicare un numero cospicuo di ebooks, prendete in considerazione di affidarvi ad una struttura professionale in grado di offrirvi questo servizio, in quanto ci vuole una certa omogeneità dei contenuti ed un massiccio lavoro di indicizzazione dei metadati, associazione di protezione Watermark e distribuzione sulle numerose librerie online.